C'è sdegno in città e sui social media per il nuovo atto di vandalismo e danni del tunnel che collega la stazione degli autobus dell'Aquila, il Terminal Natali a Collemaggio, al centro città. Un atto inqualificabile che fa rabbia e ci costringe a chiudere il tunnel del Terminal per alcuni giorni per riparare i danni e ripristinare gli spazi in modo adeguato, per accogliere in modo dignitoso l'utenza che quotidianamente lo frequenta. Con queste parole il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha commentato il gravissimo episodio di vandalismo che si è verificato nella serata di ieri all'interno della galleria di collegamento tra il megaparcheggio e Piazza Duomo. Purtroppo in questa città c'è una minoranza rumorosa che non ha alcun rispetto per la cosa pubblica e che vanifica gli sforzi dell'amministrazione e di tanti cittadini che invece conservano i beni pubblici con attenzione, anzi con l'impegno di sapere che proprio perché sono di tutti sono più importanti dai nostri beni privati. Si tratta di un atto inqualificabile, un vandalismo ingiustificato neanche dalle devianze conseguenti al periodo storico particolare che stiamo vivendo. Abbiamo denunciato i fatti, consegneremo un dossier alle forze dell'ordine e speriamo che individuare i responsabili serva da monito per stabilire una volta per tutte che i beni della comunità di una città così complicata come l'Aquila, una città che sta facendo grandi sforzi per essere ricostruita, devono essere conservati più e meglio che in altre parti. Le immagini delle telecamere hanno più volte immortalato con video e foto ripetuti atti di vandalismo ad opera di giovani per lo più. Bottiglie rotte, scritte sui muri, danneggiamenti alle strutture, vetri e controsoffitti rotti, infissi di velti, estintori rubati. Tutti atti che hanno costretto l'amministrazione comunale a sporgere denuncia perché travalicano la semplice bravata. Da mesi siamo costretti a fare i conti con ripetute segnalazioni, dice il sindaco dell'Aquila. Inciviltà e danneggiamenti interessano il tunnel, l'ultima volta, il 7 gennaio scorso e anche in quell'occasione fumo costretti alla chiusura.